Io ce l'ho. Anch'io per il mio reparto. Nella nostra clinica ne abbiamo tre modelli diversi. Il direttore non la voleva, ma ora... Grazie ai miei parrucchiani, ce l'ho anch'io. Gira, gira, l'hanno comprata anche in ufficio. Gira, 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 senti Rotowash. Gira, gira, anch'io ho scelto l'Otowash. Rotowash con acqua ed ammoniaca o detersivo non spiumoso. E lava bocchetti. E lava pimenti. Eh sì, Rotowash fa proprio quello che dice. Rotowash è garanzia di sicurezza perché è approvato dal marchio di qualità. Sei modelli per tutte le esigenze, dall'appartamento alla grande industria. Gira, 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 senti Rotowash. Gira, 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 senti Rotowash. Per una prova a domicilio, telefona a Rotowash. Milano 46 96 182. Sms grazie a tutti.